eccoci qua buonasera a tutti ciao michele ben trovati di nuovo su libri carissimo ciao carissimo mi sentite noi ti sentiamo penso ti sento da tutti quelli che mi devono sentire quindi io direi che per me siamo a posto che strano adesso sono in un doppio video perché in video conferenza su zoom l'ho lasciata su così guardo cosa fa l'altra persona se vuole comunicarvi di comunità gestia e qui funziona perfettamente io ti vedo un po io ti vedo un po più le un po sgranate un po ogni tanto di micro congeli quindi potrebbe essere forse quello magari tolgo il video dall'altra parte così e poi così magari ci risparmiamo un po di banda vai allora visto che stiamo cominciando dire ci diamo ci diamo un countdown per cominciare e poi mettiamo la sigletta quella che piace per la mai storica da quella che dovrebbe ricordare ricordiamo a tutti che il simbolo dei liberi oltre è una specie di grotta stilizzata da cui vi invitiamo a uscire non tanto per vedere la luce ma per smettere di confondere la realtà con le sue ombre poi cosa sia la realtà non si sa però di sicuro è una storia come scopriremo oggi è una storia è una storia anche quella c'è una narrativa di tra quel simbolo cominciamo con la sigla e andiamo vai mai carissimo no 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 Grazie a tutti. 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 lo sappiamo cosa c'entra tutti i miti fondanti dell'umanità sono storie è quello il punto, non c'è nulla di sorprendente abbiamo tutti quanti consapevolezza che il mito fondatore di Roma Romolo e Remo gli aratri, la lupa storie cosa c'entra? Zeus che si fa era e fa Deia go go una storia vai vai focus anche la Bibbia è tutta una storia cosa c'entra? questo non è molto originale la critica letteraria che all'inizio per lungo tempo vuole essere tecnica cerca di trovare stilemi, lo strutturalismo dice contiamo le parole ricorrenze, guardiamo la struttura l'analisi dello stile che so continua, progressivamente perde questa ambizione chiamiamola scientifica un punto in cui il critico letterario letteralmente cercava di fare la statistica del romanzo di avere una Bologna, che so Maria Corti, Ezio Raimondi la scuola italiana altri post continui poi adesso no ormai da quarantina d'anni il critico letterario fondamentalmente scrive un romanzo sopra un romanzo un racconto Blanchot credo che quello che è nella mia piccola libreria l'ha iniziato almeno io l'ho trovato in Blanchot poi in bar ok ma quindi what's the point? sì lo so sono un cacca cazzo no figurati no il punto come ti dicevo il punto che lui fa non è tanto inventarsi una cosa è mettere in ordine tutta una serie di pezzetti che riguardano questa narrazione cioè non c'è come ti ho detto non è che il libro è straordinariamente originale perché inventa delle cose ti racconta delle cose nuove che ci sono i miti fondanti lo sappiamo che i miti sono appunto miti quindi non sono cose reali sono cose che semplicemente ci raccontiamo perché sono importanti già lo sappiamo quello che fa di interessante lui di interessante cosa che io ho trovato interessante è di mettere tutte queste cose in ordine e di raccontarle un pezzetto alla volta no? per cui ti dice ok cosa perché noi abbiamo cosa noi come percepiamo il mondo come raccontiamo il mondo come discutiamo nel mondo lo raccontiamo attraverso storia e qual è una delle caratteristiche delle storie che per esempio cercano di dare senso a un mondo che di suo non ha un senso intrinseco perché facevo diciamo perché mi richiamavo alla persona che in questo momento sta parlando sulla sette perché uno dei motivi del suo successo è quello di riuscire e questo anche se il libro non ne parla di fatto racconta esattamente questo fatto qui cioè non parla della persona che sta parlando in questo momento sulla sette parla esattamente di di una un caso del genere è il caso di dare senso alle cose quando di cercare di dare una spiegazione alle cose cioè una delle caratteristiche importanti che hanno le storie che soprattutto le storie che funzionano sono di non essere se vuoi una pedante spiegazione una pedante narrazione passo passo di quello che è successo ma di permettere in parte anche attraverso la fantasia stessa del lettore di creare una di creare appunto una visione un'immagine di quello che è successo a partire da elementi che altrimenti sarebbero poco spiegabili e poco comprensibili e questi sono diciamo gli elementi che fanno e la domanda che lui si fa una delle domande che si fa è dice ok ma quali sono quelle storie che effettivamente hanno più successo di altre e perché queste sono pericolose e perché le storie poi che è un po' la tesi sono pericolose e la risposta è perché dice alla fine della festa il rischio è che le storie che si diffondono di più le storie che si tende a voler raccontare tendono a essere quelle un po' più emotivamente forti e che in qualche modo ci causano l'idea di uno scontro l'idea di base è sempre dire qui la generalizzazione è fatta molto con 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 cautela le storie che prendono sono quelle che in qualche modo dove è chiaramente identificato un cattivo c'è chiaramente un protagonista che cerca di che cerca di combattere e le cose la formula che lui dice non è lui che riporta e dice le cose vanno sempre peggio finché a un certo punto non vanno meglio e a quel punto la storia fondamentalmente si chiude quindi sono sempre storie di scontri di emozioni di cose piuttosto forti ovviamente il risultato se tu provi a fare invece una storia dove le cose vanno in modo molto più tranquillo queste storie tipicamente non funzionano non si diffondono non fanno presa perché non suscitano perché in qualche modo non suscitano sufficienti emozioni da voler essere tenute effettivamente in considerazione tutto questo ovviamente è la parte pericolosa perché se tu hai la capacità di controllare questo tipo di storie rischi di avere rischi potresti avere la capacità effettivamente di manipolare come le persone reagiscono come le persone reagiscono e questo in modo aspetta allora lui ha una teoria lui dice mi piacerebbe arrivare perché secondo me non è vero le storie che hanno successo questo non è per dire che quel tipo di storie non abbiano successo però qui ci vuole un criterio selettivo le storie che hanno successo devono avere degli eroi ma le storie hanno dei protagonisti quindi qui direi scarsa selezione è difficile raccontare una storia dove non ci sia un protagonista o almeno dei gruppi di protagonisti dove esiste la dimensione della sorpresa del pericolo e dove se capisco il protagonista dopo le mille traversie emerge esatto gli va bene beh il romanzo moderno contraddice tutte le ultime affermazioni cioè non dico David Forster Wallace che magari lo dice sì vabbè è una roba per fighi molto ma anche solo l'uomo senza qualità tanto per stare una cosa di cui ho parlato ultimamente con l'adriano lo ritiene che non è successo quindi con l'impressione che si restringa nella sua analisi delle cose che hanno successo io ho dato un'occhia dopo che mi hai detto anche al libro precedente che lo ha reso noto che ha creato la moda del narratore delle narratori lui aveva in mente di studiare i miti politici fondanti e allora però già lì dovrebbe fare uno sforzo di limitare la sua ambizione e già lì diventa come dire quasi più giocoforza che se quello che sta studiando sono non tanto le storie ma i miti fondanti di questo o quell'altro paese beh sì è un po' difficile pensare che non abbiano dentro di sé meccanismi del tipo Fratelli d'Italia l'Italia sedesta diciamo che la cosa che lui cerca di andare a studiare sono quelle cose che allora facciamolo da un'altra maniera l'impulso che sembra che a lui sembra interessare sono quelle storie che sembrano diffondersi in modo incontrollato al di là della loro ragionevolezza cioè per fare l'esempio classico è un esempio che riporta è quello della terra piatta tanto per fare esempio no dice perché una cosa come la storia della terra piatta effettivamente ti si diffonde perché tutto sommato sembra una cosa decisamente poco ragionevole alla fine della fiera sì in teoria sì in pratica diciamo e le storie su cui lui poi effettivamente concentra la sua attenzione sono quel tipo di storie quello che potremmo dire non tutte le storie di tutti i romanzi ma quelle che oggi sono le storie da facebook o facebook oramai è per vecchiacci diciamo le storie da twitter le storie da instagram le storie che diffonano i politici ok o gli attivisti politici in qualche modo queste storie perché le e perché lo fa appunto perché secondo me il punto a cui lui che ha stimolato la creazione del libro è l'ascesa di trump la diffusione delle fake news dei fatti alternativi e di tutto quello diciamo di tutto quel delirio che si è che si è sviluppato diciamo fondamentalmente l'arrivo del berlusconismo negli Stati Uniti tanto per essere chiaro e la cosa interessante e diciamo è quello su cui lui cerca di fare un ragionamento è questo perché questo tipo di storie effettivamente si diffondano anche perché alla fine queste hanno paradossalmente sono meno spinte di altre informazioni però si diffondano molto di più cioè per essere molto chiari la teoria della terra piatta ma anche la teoria che i vaccini che ne so che il famoso purgante per cavalli era una cura contro il covid o serviva a curare contro il covid era una cosa che veniva ferocemente osteggiata dai mainstream media dalla classe medica che anche detta così suonava idiota diceva è possibile ma sembra piuttosto bislacca come fa sembra piuttosto bislacco come fatto però alla fine in realtà questo tipo di cose sono ampiamente non lo so quanto sono diffuse però non è che sono state relegate alle fringe teori assolutamente sconosciute si sono diffuse e la domanda giusta è la domanda interessante è domandarsi perché effettivamente si sono diffuse e quello che fa diciamo l'autore è un po' spiegare questo tipo di spiegare fenomeni analoghi a questo cioè questo tipo di storie come fanno a diffondersi qui c'è uno che commenta le storie come virus sì una delle caratteristiche delle buone storie è che le storie buone sono le storie che ti piace raccontare ad altri perché sono quelle che effettivamente tendono perché sono quelle che e sono quelle che appunto tendono a diffondersi perché hai voglia di effettivamente di andarle a raccontare ad altri per qualche motivo tu hai citato l'uomo senza qualità di Musilli io non l'ho letto però non ci vedo qualcuno che ha voglia di venirmi a raccontare l'uomo senza ora non lo so in realtà sto facendo un'ipotesi però non vedo questo grosso desiderio di andarti a raccontare una storia del genere ma la storia del tipo guarda in realtà è successo che c'era questo tipo di cura contro questo tipo di cosa e non ce l'hanno detto ma in realtà questa cosa abbiamo scoperto che funziona è il tipo di storiella che tu vuoi andare a raccontare agli altri perché in qualche maniera un po' ti fa assumere il ruolo della persona che aiuta gli altri con un'informazione di cui non possedevano e un po' perché magari tu hai l'autentico desiderio effettivamente di aiutare gli altri allora questo tipo di storie questo tipo di informazioni lui fa esattamente un paragone simile con un altro di questo tipo di storie sono per esempio le religioni lui dedica tutto un capitolo a discutere del cristianesimo della sua struttura di come questa cosa si sia riuscita a diffondere rispetto ad altri rispetto ad altri tipi di religioni vai ti vedo aprire il braccio ma quindi è quella l'impressione che ho avuto nei due libri infatti ho letto il primo più attualmente e il secondo dice una sequenza in banalità tra l'altro con l'ossessione politica sembra che si è svegliato oggi per scoprire che quelle di Trump sono storie perché quelle di Karl Marx non lo erano certo cioè quelle di Lenin non lo erano e Mao e Che Guevara e mio nonno in Cariola e Jefferson e Paine e tutto d'altra parte anche la storia del mondo che ci raccontano i fisici è un po' una storia e una delle cose per cui il cervello umano non lo gradisce più di tanto è che purtroppo i protagonisti sono l'energia i campi magnetici queste cose un po' poco antropomorfe e quindi difficili da antropoformizzare come abbiamo detto nulla di tutto questo è originale in realtà posso dire non è vero che ecco la cosa che manca dall'argomento credo che l'informatico che è lo scienziato che è intero è che non è scientifico la teoria di questo signore non è per nulla scientifica anzi è falsa anzi non è una teoria è una fabulazione che le cose che lui dice sono tanto buone quanto quelle di Bioblo perché perché non c'è alcun test perché non è abbiamo alcuna evidenza di ciò che diventa successful e ciò che non lo diventa allora sarà una battuta cattivissima e davvero è solo perché e non vuole essere cattiva nei confronti del protagonista no davvero lo dico perché mi metto le mani avanti però è una delle cose secondo me per chi le storie di Gianni non hanno avuto successo anzi gli si sono rivoltate contro mentre le balle fantasmagoriche che racconta Fabri per dire mi hanno appena detto uno dei grandi esperti dei limoncini verdi secchi ha appena spiegato che se invece mette la capitale a Roma la mettevano a Napoli non ci sarebbe stato il brigantaggio ci sarebbe risolta la questione e soprattutto avremmo dominato finalmente il Mediterraneo che è il sogno di questi quali capisci questa è una storia demenziale dei subumani che manifesta il senso in cui la geopolitica è un'ideologia per tonti ok in cui l'essere esperti vuol dire essere scemi nel caso loro e ignoranti e con la faccia di tonti perché per la chi una teoria funziona deve essere capace di discriminare e cioè nel dirmi che le cose che hanno effetto devono avere le caratteristiche 1, 2, 3, 4, 5, 6 deve anche testarsi un attimo e mostrare che le cose che non hanno quelle caratteristiche non hanno effetto o hanno effetto o non ha qualcosa di questo tipo mentre purtroppo per una storia antropomorfa di eroe che ha successo ve ne sono 147 mila uguali però scritte in una maniera diversa che non hanno successo quante storie di bambini con elfi e cose strane ci sono nel mondo tantissime perché Harry Potter ha avuto successo veri fai no? sono delle belle affabulazioni ma non c'è nulla che vale la pena creare allora diciamo il problema è come se qui ti faccio una in realtà se nel libro lui cerca ripetutamente di dare una tra virgolette credibilità scientifica alle proprie affermazioni nel senso che cerca di dire ok questa cosa la fermo perché è stato fatto questo studio qui il problema come sempre è quello che io dico che le scienze sociali fanno un po' non le scienze la sociologia in genere diciamo c'è un mondo che fa studi usando facendo generalizzazioni un pochettino forti per fare un esempio è ovvio che si ci sono c'è un bello c'è un bel c'è un bel esempio che lui racconta a un certo punto di un esperimento che è stato fatto credo negli anni 50 dove due scienziati hanno fatto un cartone animato molto semplice bidimensionale con protagonisti un triangolino piccolo un tondo e un triangolino grande queste tre figure geometriche si muovono in un certo modo e di fatto si invitava le persone a guardare queste figure che si muovono e a raccontare la storia che queste tre figure svolgevano per far vedere fondamentalmente che cosa che cosa che noi tendevamo a dare significato alle cose indipendentemente dal significato stesso delle cose cioè noi in realtà se vuoi il creare la storia è un fatto che in gran parte viene fatto da chi guarda e non solo da chi racconta in questo gli esperimenti in sé interessante il problema come sempre è quanto puoi generalizzare da un esperimento del genere ed è un po' il disastro che io vedo sempre in questo tipo di studi cioè si prendono due tre quattro cinque esperimenti molto puntuali molto locali e si generalizzano con dei salti abbastanza feroci con il risultato che poi appunto ti ritrovi come dici te cioè che non hai hai preso quello che era probabilmente un elemento di verità e l'ha portato a un livello talmente generale che trovi duecento controesempi e quindi non sei più in grado di fare un'affermazione significativa dicevo il libro cosa c'ha di cosa c'ha di il libro appunto quello che vuole assomiglia un po' all'economia della il capitalismo della sorveglianza in questo senso nel senso che vuole essere un una chiamata un po' una in modo minore una chiamata alle armi alla consapevolezza del potere delle storie per dire fate attenzione perché le storie sono strumenti di manipolazione quindi diciamo l'obiettivo è dire intanto ti spiego come funzionano le storie e poi insieme ti faccio vedere come effettivamente queste storie possono essere non dico controllate perché quello che lui sostiene è non puoi fare una storia interessante che sia sempre positiva le storie in qualche modo devono essere negative ma se hai capacità di capire come funzionano questo tipo di storie e questo tipo di storie puoi evitare di fartene prendere di fartene toccare in modo eccessivo questo diciamo è un po' lo spunto allora qui c'è un problema ovviamente che lui solleva in realtà la relevanza di questa cosa mi sembra più da analisi sociologica della politica attuale cioè una certa accademia si è svegliata ha visto che le storie del complottismo eccetera hanno successo hanno visto che esiste un gruppo ampio forse maggioritario delle popolazioni nei paesi occidentali che non sono particolarmente sofisticate quindi non gradiscono storie molto sofisticate mi dicono che sono frizzato lo sono ancora? sei un po' a scatti in realtà ho tolto il mio video di là ora forse ricoprerà piano piano allora approfitto per rispondere a Paul Mariuth che deve essere allora ho visto chi è il signor Giannulli non lo so vedrò trovo molto sgradevole che si parli di me esplicitamente criticandomi senza invitarmi voi direte ma lo state facendo anche voi con l'autore di questo libro beh è una roba un po' diversa stiamo discutendo un libro cercando di valutare un libro se il signore potesse venire saremo contenti ma dubito che ne avrebbe il tempo da un lato e che poi gradireste il dibattito che sarebbe tutto in inglese dall'altro comunque se mi hanno informato vedrò se è il caso Ivan Greco ovviamente me l'ha già proposto sto valutando il suo tempo che non è ovvio torniamo all'analisi di perché secondo me questi libri hanno cominciato ad avere un certo successo molto forte in una certa ambito culturale perché c'è denial in questo tipo di libro di argomento se ci pensi e il denial cos'è? il denial è che la cosa non lo riguardi lui sta parlando degli altri no lo dice chiaramente che riguarda anche se stesso nella parte in fondo proprio in fondo quando parla dei rimedi se vai proprio all'ultimo capitolo al capitolo finale diciamo conosci te stesso fondamentalmente quello lui dice che mai fidarsi di uno che racconta storie non parlavo solo a voi parlavo di voi siamo tutti narratori e quindi non ci si può fidare di nessuno men che mai di noi stessi quindi in qualche modo lui è consapevole di questo aspetto stai proprio alla fine nella conclusione c'è il paragrafo conosci te stesso ok a maggior ragione appunto vabbè quindi questa consapevolezza che nel libro nel primo non c'è esatto scusami no il primo non l'ho letto il primo poi è proprio tutta una serie di storie storielle di non se l'avete letto no no quello no non l'ho ancora letto non l'ho letto ma francamente da quello che ho capito dal secondo dopo aver dato un'occhiata al primo the storytelling animo praticamente il copione e il secondo è un suo aggiornamento adattamento a quello che è successo dopo con particolare attenzione all'emergere delle fake news che sono storie il primo fammi vedere la data è piuttosto anziano si è del 12 quindi è pre diciamo che è pre era una cosa molto più lettera molto più d'acqua esattamente questo è molto più militante se vuoi bravissimo bravissimo esattamente quella che ho l'impressione quindi il primo è una serie di cose tra l'altro se ci fosse qua Adriano si arrabbierebbe sia con te che con me perché direbbe ma che coglioni queste spiegazioni di Evolution Psychology fanno un po' ridere io sarei in parte d'accordo con lui in che senso ma nel senso che non c'è una spiegazione Evolution Psychology Gottschel continua a ripetere che che sì che siamo animali che hanno bisogno delle storie che siamo animali che raccontano storie che per vivere socializzare bisogna delle storie che è vero perché sembra evidente che così lo siamo che questa è una capacità del cervello che ci dà piacere anzi io ve lo dico mi confesso pubblicamente da sempre da quando ero bambino ma proprio da quando ero bambino è una delle cose che mi ha fatto vivere bene e mi ha fatto tuttora vivere bene perché mi dà un grande senso di possibilità non so quanti di voi lo faccio infatti magari una volta ci faccio un 6 e 15 ne racconto un po' così intimamente ma lo dico oggi a Paolo che è una delle persone che mi ispira fiducia io da sempre da quando ero bambino da quando ho memoria di me stesso io non mi addormento mai subito a meno che non sia stanchissimo e quando vado a letto e chiudo gli occhi io mi faccio delle storie che alcune volte sono magari ispirate ma il grosso delle volte erano la mia versione dell'esame di coscienza il mio esame di coscienza da buon cattolico dal ragazzino campagnolo mi insegnavano che dovevo farmelo tutte le sette e io invece di farmi l'esame di coscienza fondamentalmente mi facevo l'esame di prospettiva cioè mi raccontavo scenari di quello che avrebbe potuto accadere la mia vita e io avrei potuto fare a partire dalla situazione data cioè dicevo oggi è l'8 febbraio 1900 che so 64 avevo 8 anni per dire no cosa potrebbe succedere domani cosa potrei fare mi raccontavo delle storie quindi mi addormentavo e l'ho sempre fatto lo faccio anche adesso che ne ho 67 con più sono meno ambiziose sono meno fantasmagoriche sono meno eroico succedono cose cioè durano meno perché poi vanno avanti appuntate nel figli e tom nel senso che quando una storia mi piaceva quando una vita possibile ho vissuto tante vite possibili e anche tentando siccome sono un realista un pragmatico come tutti sanno quando la mente spontaneamente o i flussi del desiderio perché è bello perché entri in quella frase in cui ti stai quasi addormentando e quindi il controllo razionale sulle emozioni si acchieta e comincia ad essere quasi un sogno e quindi le emozioni escono più facilmente i desideri e le emozioni creano la fantasia li evitano ti sollevano e fanno saltare i passaggi allora infatti una delle cose che succede e che delle volte mi ha fatto perdere il sonno non sei il solo allora Gabri è visto siamo almeno in due ma da come scuote la testa Paolo mi sa che siamo in tre e la cosa che poi ho imparato a disciplinare nel tempo a che se a volte no è che quando una storia mi piace particolarmente a livello emozionale mi soddisfa tende a lievitare troppo e allora io la fermo e le dico no no ma sta cosa non può succedere adesso questo passaggio è un volo pindarico eccessivo che la libertà dell'autore del romanzo è eccessiva bisogna trovare una connessione bisogna rendere questo prosieguo realista ok sì è esattamente questo Riccardo Fabri se è una forma di autoopnosi lui menziona la frequenza delle onde sto usando sono da un da un browser dove non ho fatto il login quindi non riesco a mettere commenti miei li gestisci tu perché io non riesco neanche a farli vedere e la cosa che ho notato è che se c'è l'effetto mi piace la storia però devo renderla più realistica quindi la corteccia prontale la coscienza lo stare viene sollecitata troppo perdo il sogno e mi trovo in quelle notti insonni in cui sono lì che sta storia gira e rigira per la mia testa poi si cumula ad altre poi mi fa venire in mente che invece altro che quella storia lì che domani devi pagare le tasse cretino oppure che hai la lezione e non l'hai preparata o ti sei scordato che avevi il video con Paolo Bizzarri e hai messo un altro appuntamento e tutto questo rimescolarsi mi fa perdere il sogno per cui ti immagini se non capisco questa cosa ma sai però qual è il punto oltre all'avere l'ovvia constatazione che le storie ci danno piacere esattamente come ci da piacere il sesso esattamente come ci da piacere il buon vino esattamente come ci da piacere appunto la buona lettura la buona musica eccetera il punto è che sì è ovvio che ci siamo adattati ci siamo evoluti come dire in maniera tale che ste robe ti piacciono ma perché? e lui non lo risponde non è che io voglia che lui risponda ma né nel primo libro né nel secondo risponde un qualcosa di vabbè in realtà non dà una risposta straordinaria ma perché dà una risposta ci vorrebbe una comprensione della cosiddetta coscienza di tutte le cose lì che non abbiamo ci vorrebbe la capacità di simulare itinerari evolutivi diversi che non abbiamo no? questo è un tema che ho posto con teori di Adriano ma perché la natura ci pare bella? è questo i sensi lo percepiscono come minaccioso da incubo e così via non riusciremo a essere positivi i fenomeni fuggiremmo da questo mondo non ti pare? assolutamente sì e diciamo e quindi deve esserci stata selezione a favore di quelle mutazioni del nostro cervello che ci hanno fatto sembrare il mondo in cui viviamo perlomeno non non terrificante e quindi ovviamente più bello è più hai voglia di starci a me sembra che sia così no? ti voglio ora siccome stiamo diciamo ecco per questa nuova stagione abbiamo detto insieme a Michele che vogliamo essere un po' più brevi del solito scusami mi sto lanciando l'argomento un po' mi affascina ma nella forma di storytelling per noi cioè raccontiamo anche noi le storie tu e io io gli ho raccontato la storia di me stesso diciamo allora se vuoi io ti do la variante che faccio io di quell'argomento che è un po' più da paranoico cioè io non so se da paranoico però spiega molti dei miei interessi bislacchi ogni tanto mi capita di studiare delle storie però a un certo punto io siccome sono uno che studia scienza io dico no ma questa questa cosa io devo sapere esattamente come funziona perché se no non me la posso immaginare giusta e allora mi capita di mettermi a studiare cose assurde proprio tu dici ma a te che te ne fregava di sapere quanti quante persone quanti botteghe di artigiani c'erano in un villaggio medievale dell'Italia di quell'epoca è perché io mi devo fare mi devo immaginare che in questo villaggio ci devono stare tot persone ci devono stare tot soldati e devo sapere fondamentalmente come funziona cioè la mia fantasia tutte quelle storie che io mi immaginavo che tipicamente mi creo poi anch'io insieme a te quando sono a letto devono avere anche un elemento reale cioè non possono non devono essere non devono avere solo quei passaggi logici per cui tornano devono anche tornare dal punto di vista economico scientifico se vuoi è l'unico motivo che è un po' che è un po' una cosa molto bislacca però è molto reale però è così ma anch'io anch'io devono devono torna non voglio molti questo non è la prima volta che rivelo questa cosa anche se è la prima volta che lo rivelo così circostanza molto pubblica e soprattutto molto ripetibile a questo punto l'ho detto è in un video di chiunque riprodurle di fondo se ne è parlato con amici più o meno intimi con con Susanna si racconta su dei momenti una delle forme di intimità degli umani è raccontarsi le storie private giusto certo e Gerardo siamo diventati amici per questo infatti la prima lite e anche il primo momento di amicizia vera fu che io romanzai io venivo da fuori venivo da quando Gerardo ha campato lui aveva otto mesi più di me io avevo dieci anni lui ne avrebbe compiuti undici tre mesi dopo e nelle settimane seguenti mentre ci conoscevamo a un certo punto ci raccontavamo della nostra campagna perché si viveva nella periferia di Mestre non c'era più la campagna lui però aveva una campagna di riferimento che era la casa del nonno ma molto lontano una quindicina di chilometri a nord verso Tremiso un posto si chiama Zermin dove poi appena avevamo l'autonomia di muoverci in bicicletta andavamo regolarmente perché era bellissimo stupendi alberi di frutta e andavamo anche a lavorare e aiutare il nonno io avevo il ricordo della campagna che anche se era periferia di Padova dove sono cresciuto era proprio campagna e quindi di questa campagna raccontavo le cose che erano successe solo che a un certo punto cominciavo a romanzare gli amici di là e c'era appunto nel romanzo ho perso completamente il controllo racconto dopo l'appunto dei fatti veri e ho cominciato a dire cose assurde e c'era appunto e c'era appunto sconta se sono belle però mi stai raccontando delle balle truculette queste cose non possono come non sono successe c'era Michele le lampadine l'illuminazione chi è veneto capisce cos'è una bustia che è un fosso vuoto secco che gli amico verrei a costruire dice dai alla nostra età chi è che te l'ha portato chi è che ne ha portato cose distante e quindi sì poi mano a mano con gli anni anch'io la stessa passione tua se non tornano i conti se non è ecco se non è possibile pur essendo improbabile non me la raccomando no perché non è se tanto se tanto come dire può essere la qualunque a quel punto cioè il bello se vuoi della fantasia della storia che è un po' che è un po' che ora per riattaccarsi al libro è anche uno degli elementi che lui che la persona cinta è che la cosa deve tornare cioè non può essere una storia impossibile gli elementi di realismo della la cosa può essere strana ma non può ma se è impossibile impossibile nel senso che io non la ritengo possibile non la riesco ad accettare non la riesce ad accettare come storia perché a quel punto può succedere qualunque cosa e quindi se vuoi una storia le storie hanno una mia disciplina che è la mia forse lì c'è una maniera di vedere la psicologia interna la percezione del reale il modello del mondo che l'autore delle storie ha nel decidere cosa ritiene possibile se vuoi un po' sono quei fenomeni per cui tu riesci a tu dici a capire il signore estremo opposto a chi si rivolge era il commento quindi questo secondo me è un commento che viene da prima qui il commento è quindi in realtà fa più schifo di come ci sembra ottimo questo deve essere legato al commento che facevi sulla percezione della realtà sul fatto che noi percepiamo la realtà come buona perché perché era questo perché se no se ci sembrasse orrenda noi ci succederemmo perché ma certo non ho detto che tutta la natura Rick dice la pioggia con i novelloni è natura ma non piace a tutti vero non piace a tutti esattamente neanche i baratri piacciono a tutti neanche il vuoto della parete piace a tutti poi ci sono alcune situazioni della natura no? infatti non a caso sono minacciose cioè la pioggia con i nuvoloni potenzialmente specialmente per un uomo primitivo è un dei pericoli quindi è ragionevole che mandi un segnale di sopravvivenza giusto? ma non è una situazione tipica non è una situazione standard e il livello di paura che fa varia perché varia la risposta diciamo che la natura in stato normale non fa poco e anzi negli anni negli secoli negli millenni quello che è chiaramente dobbiamo aver deciso che io che bello lo diciamo continuamente deve esserci pure la ragione non credo che mentiamo non credo che si menti dunque ti volevo rilanciare un ultimo punto che viene dal libro e che a me invece è piaciuto tanto ha indotto tante riflessioni proprio all'inizio racconto un episodio molto buffo con eventualmente una cosa che è successa nel Texas adesso te la ritrovo per esattamente e te la non la leggo perché è lunghetta ma sostanzialmente cosa è successo ed è una cosa divertentissima ma in questa cittadina del Texas si sono ritrovati a manifestare due gruppi di persone uno che erano i patrioti fondamentalmente il gruppo dei patrioti e l'altro un gruppo di musulmani americani con la polizia nel mezzo a tenerli divisi perché se no si gonfiano e tutti e due i cavolati per questo per quell'altro per le solite ragioni la cosa interessante è che entrambi questi gruppi erano due gruppi manipolati dai troll da troll da una fabbrica di troll russi quindi nessuno in realtà erano stati tutti e due messi lì proprio per per scontrarsi allora la cosa interessante cosa è la storia siccome parliamo di storie qual è la storia che io ho trovato interessante la storia che la sinistra si è raccontata e che alla fine in realtà si è rivela si è rivela poi sostanzialmente sbagliata e vedete Trump i russi volevano mettere hanno fatto di tutto per mettere Trump al potere e per questo hanno manipolato le elezioni in maniera che lui vincesse e la Clinton perdesse in realtà se vuoi questa è la storia che la sinistra si è raccontata e quello che hanno detto è che in realtà tutte le manipolazioni sono state fatte per favorire la destra e non per favorire la sinistra ma se ci pensi questo è illogico perché vuol dire che se Trump avesse perso loro avrebbero fallito il loro obiettivo strategico che era indebolire il loro nemico l'obiettivo strategico quindi tu come lo puoi perseguire non dicendo voglio che vinca uno ma chiunque vinca io ho vinto questo è quello che tu vuoi ottenere e come fai a vincere facendo in modo che chiunque vinca il sistema di divisione all'interno della società sia tale che la società americana comunque si indebolisce e se vuoi l'esempio quello del Texas era esattamente questo non è che devono vincere i patrioti o devono vincere i musulmani no a me interessa che ci sia il conflitto poi il resto non me ne frega nulla ovviamente la sinistra non poteva se non poteva condivido un po' con limiti però alcuni sono chiaramente che siano ovviamente la chiave di fondo infatti non a caso io sono perfettamente convinto che dietro a molte estremismi che dietro è immerso nel passato e continuerà a immerse che dietro a tutti gli estremismi protestatari occidentali anche quando hanno una base razionale ok vi siano forme di alimentazione di distorsione dell'informazione anche di finanziamenti che vengono dai nostri dai regimi che sono nemici storici ok assolutamente sì che questo è il punto chiave e questo se vuoi è il punto su cui l'autore un po' la capisce alla fine ma non la capisce davvero bene perché lui appunto vive in quel sistema di sì a un certo punto lo dice in fondo dice io sono stato sempre con il terrore di scrivere la parola sbagliata del libro e di farmi segare a un certo punto lo dice in fondo al libro cioè di rendersi conto che certi aspetti che il nemico dell'occidente chi che sia non ha interesse a che vinca la sinistra o vinca la destra nell'occidente ha interesse che perda l'occidente e questo si fa fondamentalmente facendo saltare in aria il sistema democratico occidentale cioè il sistema del confronto questo siamo totalmente d'accordo però perdona eh Paolo a liberi oltre lo dice sì 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 era come dire riflettere ma siamo totalmente d'accordo questa è una cosa che infatti molti di cui molti non si rendono conto che la chiave di fondo è sputtanare il sistema il quale i quali esponenti del sistema devo dire stanno facendo il possibile per dargli una mano e il sistema ha degli obiettivi limiti di fragilità propria uno dei problemi che non riesco a spiegare mai bene che è una delle ragioni per cui alcuni capitoli chiavi di questo mio famoso libro che da tre anni annuncio e ormai esce sono blocato perché vedi il cosiddetto sistema liberal democratico anche astraendo dai miti liberali sperroni su un comportamento umano è comunque un sistema che si regge se e solo se funziona se e solo se gli umani sono al 99% come dire giocano al gioco nella loro visione di come ci si rapporta gli uni con gli altri cioè se al di là delle enormi differenze possibili di valutazione su quale sia la politica giusta si accetta tutti profondamente e ci si comporta di conseguenza che le forme di interazione e di decisione devono essere quelle di un certo tipo d'accordo? che sono quelle definite se vuoi dalla tradizione normativa liberale democratica che disegna un mondo ideale in cui ci sono è un po' quello l'errore perché c'è un mondo fatto di bizzarri e boldrini che hanno delle biblioteche si incrociano si chiacchierano si dicono gentleman quando hanno finito la discussione ma una polazione assieme si scambiano il libro dico ma va benissimo Paolo non sono d'accordo ma la prossima volta sì e Paolo diceva va benissimo Michele ma ti immagini e non credo che tu sia un nemico del popolo in quel mondo lì everything works well that's not the way the world is non è la maniera in cui è il mondo e i nostri sistemi di valori anche di emozioni di modelli del mondo che abbiamo sono fatte mi pare che sia qui uno dei punti no sì è un po' diciamo che è un po' il problema grosso cioè che il sistema di storie è fatto apposta per far saltare questo tipo di approccio cioè se vuoi qui riprendiamo quello che un po' diceva il buon libro il neurobiologo che mi ha fatto leggere Gerardo il libro che mi ha fatto leggere Gerardo non mi ricordo come si chiama Amazio Amazio cioè che la parte emozionale in realtà è prevalente se non addirittura dominante rispetto a la parte assolutamente se vuoi ne parliamo anche noi ne abbiamo parlato in passato assolutamente ma non è solo quello che le storie è che bisogna tutti credere alla stessa storia o ad un insieme di storie ad un insieme di storie che sono che sono abbastanza condivise delle stelle cose e se vuoi e qui ti porto un po' per chiudere e tornare le esperienze personali che anche tu hai se i criteri di realtà e di possibilità che adottiamo nel costruire le storie sono condivisi abbiamo storie fra loro compatibili anche se io ti offro una narrazione del mondo che deve essere tu mi offri una narrazione del mondo che deve essere votiamo ok ma la tua narrazione e la mia narrazione sono costruite su criteri di realtà di possibilità di fattibilità tra di loro compatibili semplicemente soddisfano emozioni diverse interessi sociali diversi valori diversi quando diventano incompatibili allora salta allora io e te non siamo più non possiamo più decidere col sistema liberale democratico o tu meno me o io meno te beh sì adesso lo sto semplificando io la vedrei così ecco qui c'è un po' no sì 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 è esattamente questo cioè quando noi decidiamo che se vuoi non c'è una traiettoria in cui siamo tutti in cui nessuno di noi due è cattivo non c'è una storia in cui nessuno di noi due è cattivo ma siamo semplicemente prima va avanti uno e poi va avanti un altro ma alla fine uno viene annientato e l'altro prevale e ovviamente come dico sempre io nessuno gioca a un gioco nessuno vuole vuole fare il cattivo della storia perché il cattivo della storia si sa come va a finire insomma tu ti ricordi quando si giocavano che erano bimbetti si facevano dice nessuno voleva fare il cattivo perché il cattivo faceva una fidaccia alla fine della festa quindi non era molto divertente ed è esattamente ora queste erano cose da bimbetti però è esattamente la stessa storia nessuno non puoi fare e se vuoi è un po' questa anche tornando a un livello più serio di politica il fatto che molto spesso le storie che i politici si raccontano di se stessi sono abbastanza interessanti per il mondo di cui loro parlano ma sono devastanti per tutto il resto cioè per il loro elettorato sono abbastanza interessanti per tutto il resto dell'elettorato sono un disastro sono qualcosa di assolutamente inaccettabile questo sistema non può funzionare cioè non è che c'è un sistema dove che so i dipendenti pubblici vengono licenziati in massa e e un altro in cui tutti i lavoratori autonomi vengono incarcerati come evasori queste due visioni non possono non sono compatibili con il sistema elettorale diciamo esatto mi sembra una buona sintesi mi sembra una buona sintesi beh avete visto dalla narrazione letteraria Paolo è riuscito a portarci all'attualità va bene allora cosa facciamo manteniamo la promessa io direi di sì manteniamo la promessa Marco siamo bravissimi ora giusta ora ci chiudiamo io senti per la prossima volta ho già trovato il librino nuovo bene annunciamolo così chi vuole leggerlo lo legge ed è giù grossi che non abbiamo risposto sì sono d'accordo ovviamente ci sono fantasie volutamente assurde come forma di fuga però o no certo e lì sarebbe interessante uno studio sulla gente che dice la verità secondo me c'è una forte correlazione tra il tipo di fantasie che le persone si fanno e poi come vivono la loro vita quello che fanno come si rapportano nella realtà però questo lo lasciamo per un altro argomento un altro argomento magari Paolo trova un libro che parli di questo sarebbe molto interessante il lavoro empirico in psicologia che cerca di vedere appunto la relazione che c'è fra quel che facciamo nella cosiddetta vita reale e quel che ci raccontiamo i mondi possibili che ci raccontiamo ce l'ho un libro ce l'ho un libro però è il è un libro è il classico libro da business school di Harvard partiamo dai diamogli un'occhiata magari è una cagata però magari troviamo della letteratura seria Iuri è d'accordo secondo me qualche qualche laboratorio di psicologia applicata ha provato a farlo allora guarda se vogliamo chiudiamo dai se vuole parlare di questo te lo dico qual è no 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 hai detto che avevi già un libro per la settimana prossima allora il libro il libro che ce l'ho era questo qui che mi sembra ma ne abbiamo già parlato no questo non è è un'altra cosa questo è il libro e allora bisogna rinvitare Maurizio se viene allora il titolo si perché noi siamo brutti i cattivi neoliberali ma dai che viene ha paura dei greci e dei romani dialogo e cancel culture il dialogo è fondamentalmente il fenomeno che sta succedendo il fenomeno il discorso che si sta sviluppando negli Stati Uniti sul fatto se è importante tenere le storie per tornare a parlare di storie dei greci e dei romani e la riflessione che ci va sopra Maurizio questo l'ho comprato non l'ho ancora letto lo leggiamo lo leggiamo lo leggiamo faccio in tempo e arrivo in Italia fra una settimana faccio in tempo a farmi arrivare a casa di Susanna così appena arrivo me lo leggo mi sembra breve e quindi la settimana dopo riusciamo a parlarne che lo leggo bene un abbraccione un abbraccione allora grazie a tutti e mi raccomando alla prossima un abbraccio ciao ciao no aspetta fermo tutto fermo che succede Armin Speranza metti in evidenza no Armin Speranza mi dispiace però probabilmente non so hai pensato che mi dispiace questa frase la natura nel mondo c'è una solita frase polemica di uno che vuole metterci la polemica più o meno socialistoide ed è falsa perché la natura nel mondo non ci è oggettivamente molto ostile se non il mondo è sempre ostile a se stesso perché c'è il fatto di risorse al limite perché esiste la selezione darwiniana quindi hai scoperto che ciò che esiste no ma non è per niente ostile e il comfort che tu chiami comfort per chi può permettersi mi dispiace figlio sono una cosa molto recente sei forse anche molto ignorante è triste avere gente che ti sta ascoltando e che letteralmente non conosce l'abc della storia del mondo e se gli umani hanno vissuto e sono stati felici e hanno cantato poesie hanno ballato nel mondo per migliaia di anni senza di quelle cose che tu chiami comfort che suppongo sia il tetto i vetri il riscaldamento la macchina e questo fino all'altro giorno e non è vero che erano tutti disperati sempre basta appunto leggere le loro letterature anche popolari le loro storie le loro cose quindi ecco questo come dire è una forma di non so come dire di manifesta acidità di storia io consiglierei un Marx prima della lettura di un qualsiasi testo di storia dell'umanità consiglierei una buona dose di malo se è una bella dormita va bene adesso possiamo davvero chiudere e ci focalizziamo